Buongiorno Presidente, solo due parole per raccontarle dove ci troviamo. Ci troviamo al terzo piano di Palazzo Beidekind, in quelli che furono gli appartamenti privati della famiglia Beidekind, a cui dobbiamo la realizzazione di questo fabbricato, diciamo nell'assetto attuale. La famiglia proveniva da Monaco di Baviera, ma ha passato più di 100 anni ospite nel nostro paese in particolare. Il terzo quadro che avremmo scelto è questo. Questo è un quadro di Ugo Attardi. Ugo Attardi Grazie. 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 Signor Presidente della Repubblica, signora Presidente della Corte Costituzionale, signor Vice Presidente del Senato, signor rappresentante della Camera dei Deputati, signora Ministra del Lavoro, autorità tutte, gentili ospite. La storia del MIPS coincide con la storia del nostro Stato sociale. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.